Sapevate che molte persone stanno raggiungendo i loro obiettivi di perdita di peso in modo rapido e sano? E tutto grazie a KetoBlack, un integratore efficace e naturale che sta rivoluzionando il mercato della perdita di peso. Sono Paola, una nutrizionista, e posso assicurarvi che KetoBlack è la soluzione di cui avete bisogno per conquistare finalmente il corpo dei vostri sogni. Non perdete più tempo a sentirvi frustrati e scoraggiati da diete ed esercizi che non funzionano per voi. Con KetoBlack, otterrete un potente aiuto per ripulire il vostro corpo dalle tossine e dalle impurità che impediscono la perdita di peso, migliorare il funzionamento del fegato, del cuore e del cervello e accelerare il metabolismo per trasformare le calorie del cibo in energia, non in grasso corporeo. E soprattutto, KetoBlack è naturale al 100% e non provoca effetti collaterali indesiderati. Se siete stanchi di cercare di perdere peso senza successo, KetoBlack è la soluzione che stavate cercando. Immaginate di sentirvi più sicuri di voi stessi, di avere più energia, disposizione e salute per godervi appieno la vita. Ma attenzione, solo il KetoBlack originale può fornire tutti questi benefici. La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla nascita di molte contrafazioni. Ma il KetoBlack originale si può trovare solo sul sito ufficiale del produttore e, per aiutarvi, vi lascio il link del sito ufficiale nella descrizione di questo video. Non lasciate per dopo quello che potete ottenere ora con il KetoBlack. Cliccate sul link sottostante e iniziate a trasformare la vostra vita oggi stesso.